Sono quattro le segnalazioni pervenute nella provincia dell'Aquila, di cui due riferite all'area Peligna, inoltrate all'Agenzia del Farmaco, AIFA, riguardo la comparsa della sindrome di Julian Barret, correlata con gli effetti della vaccinazione anti-covid-19. Si studieranno i singoli casi con gli approfondimenti specifici in linea con il protocollo di riferimento. Si tratta di un effetto indesiderato molto raro, per dirla con le parole dell'AIFA, poiché si deve studiare se esiste un eventuale nesso causale con il vaccino. In Valle Peligna la prima segnalazione risale alle scorse settimane riguarda un paziente del posto che dopo la prima inoculazione del vaccino Pfizer, un passaggio in ospedale, è stato trattato dalla clinica Saraffaele. L'altro caso riguarda una donna residente a Prado la Peligna che ha sviluppato i disturbi cinque giorni dopo la seconda somministrazione. Refertata da pronto soccorso dell'ospedale di Sulmona, è stata ricoverata per 14 giorni nell'ospedale di Lanciano. Sta seguendo la terapia specifica. Ho ancora diversi problemi. Non posso guidare e deambulare con facilità, racconta la donna ai microfoni di Onda Tg. Le statistiche a riguardo parlano chiaro. Sono effetti rari da correlare non solo al vaccino anti-covid ma anche all'anti-influenzale. Abbiamo registrato solo quattro case in tutta la provincia. Sicuramente va fatta la segnalazione all'AIFA tenendo presente che la sindrome colpisce le persone maggiormente predisposte, ha detto Domenico Pompei, direttore di Divartimento Prevenzione ASL. Si tratta nello specifico di un raro disturbo neurologico il cui sistema immunitario del corpo danneggia le cellule nervose provocando dolore, intorpidimento e debolezza muscolare. Solitamente se ne esce nel giro di un paio di mesi con una diagnosi precoce. Nel frattempo va avanti con ritmo spedito la campagna vaccinale in provincia dell'Aquila. La percentuale di somministrazione raggiunta sulla popolazione target ha superato abbondantemente il 76%, un trend più che ottimo, conclude Ricogianzante, direttore dell'OCCESP della provincia dell'Aquila. Ci stiamo concentrando sulle scuole e stiamo per avviare il monitoraggio con i test salivari per gli ultimi anni della scuola dell'infanzia e i primi della primaria.